registrazione video 4k 24 fotogrammi per secondo iphone 15 pro max dotato di tripla fotocamera ovviamente posteriore tanto siamo andati allo zoom del ferro, il contrasto non si è prelevato ma al solito mi riservo sempre poi di andare ad analizzare calma in dettaglio i video quando li ho caricati con youtube mi raccomando iscrivetevi al canale 4k a cambiare un secondo con la tripla fotocamera andiamo a 15x dicevo di tripla fotocamera di A15 Pro Max che è elettorizzata da un sensore da 48 megapixel grandangolare un ultra grandangolare da 12 megapixel anche questo da 12 megapixel il massimo 15x il strumento in quadrante un fraghetto che da pulsone della velocità a Procida e Ischia il faro vi faccio vedere qual è la distanza per farvi capire quanto avvicina l'obiettivo ecco questo è lo zoom 1x la distanza reale da me dal mio sguardo dal mio sguardo la qualità dell'immagine sembra ottima di solito i icon tendono ad avere un elevato contrasto però in questo caso mi dicevo sembra 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 come è un torino finta perché nonostante non ci sia una luce vera oltimale comunque la qualità mi sembra buona cioè il contrasto insomma non mi sembra eravata distrazione video 4k a 24 fotogrammi per secondo sul canale trovate anche i test video non le altre risoluzioni grazie